Barbara D'Urso resta a Mediaset ma anche nella prossima stagione televisiva dovrà fare a meno di alcuni programmi. Niente domenica live, niente live e non è la D'Urso. Ancora in bilico un'eventuale nuova edizione della Pupa e il secchione su Italia 1. Di sicuro la 65enne resterà al timone di Pomeriggio 5, come annunciato nel corso dell'ultima puntata. Insomma, è più che mai evidente, rispetto al passato il ruolo di Barbara D'Urso in televisione è stato fortemente ridimensionato. E così la conduttrice napoletana ha deciso di tornare al suo vecchio lavoro, quello di attrice. Come fa sapere Davide Maggio, Carmelita sarà la protagonista di Taxi a due piazze, spettacolo di Re e Cuni per la regia di Chiara Noschese. Accanto alla D'Urso ci sarà Rosalia Porca, lo spettacolo debutterà nella primavera 2023 e sarà in scena in giro per l'Italia ogni fine settimana. Dunque l'intenzione di Barbarella è Chiara, dal lunedì al venerdì sarà impegnata con Pomeriggio 5 mentre nei weekend si dedicherà al teatro, da sempre una sua grande passione. Il passato d'attrice di Barbara D'Urso. Prima di diventare una delle presentatrici di punta di Canale 5, Barbara D'Urso ha lavorato a lungo a teatro. Ha iniziato nel 1993 collaborando con importanti registi e attori. L'ultima volta sul palcoscenico risale al 2008 con il letto ovale di John Chapman e Ray Cuni. L'artista ha scelto di ripartire da quest'ultimo per il suo ritorno sulle scene teatrali.